Roma è letteralmente ostaggio del Partito Democratico. Siamo convinti, anche se è una lettura un po' stravagante, che ci sia un accordo sotterraneo tra il Partito Democratico e il Sindaco di Roma, coperto dal Presidente del Consiglio, altrimenti nella cena di ieri non sarebbe mai potuto accadere che all'uscita Marino dichiarasse che quella cena era andata benissimo. A 12 ore di distanza Marino, colpo di scena, ritira le sue dimissioni. Il Partito Democratico sta cercando di rifarsi una verginità, prendendo le distanze da Marino, ma è tutto un gioco, sono tutti d'accordo e stanno giocando sulla pelle della capitale d'Italia. Per questo noi chiediamo che immediatamente il Comune di Roma venga commissariato, ci sono gli strumenti normativi per farlo e si possa liberamente dare la parola ai cittadini per scegliere un nuovo sindaco.